Non credo che sia mai neanche lontanamente esistita questa ipotesi di missione, sicuramente Claudio come sua amitudine si è confrontato e si confronta con tutte le parti in questione, dai vertici dall'amministratore delegato fino al direttore di rete, insomma ognuno per dare per le sue parti perché saremo lo detto fino allo sfinimento, ripeto, dell'asset fondamentale dell'azienda Raya e dunque di conseguenza il confronto è d'obbligo ma che sia mai esistita anche lontanamente nel pensiero di Claudio in un'idea del genere mi sento assolutamente smentirla perché è veramente sinceramente infondata.